Che è? Questa la porti dietro Che è? Questa è per pararti dai cose brutte Capito? Cioè te lo porti dietro Ci metti l'uovo dentro Poi lo metti là dove dormite Con il ragazzo tuo Questo si porta a tutte le cose Eh no, con queste cose mi sta a fare Non viene paura Oh Te c'è qualcosa che non ti fa sta bene Io voglio che stai tranquilla, capito? Ma lo prometti a nonna? Che devo fare? Ci metto l'uovo poi? Ci metti l'uovo e poi lo mettete dove dormite te e ragazzo tuo Poi quando è finito Torni e muo porti e vediamo le cose come sono date Ma le cose che... Se qualcuno ti ha pensato male Se qualcuno è stato invidioso O se ti hanno Iettato qualcosa Dai Non ti preoccupare Sta tranquilla nonna, guarda Non ci sta alzando, non ci sta niente Questo significa il malocchio Te l'hanno fatto mica a morte A tribù là Guarda, tranquilla C'è qualcuno che te vuole male, capito? Però muo Hai muo messo tutto qua Muo si risolve Ci pensa nonna Fatto Grazie